Abbiamo avuto poco tempo fortunatamente per pensare alla partita di Iesi, abbiamo cercato di analizzare molto velocemente gli errori commessi e soprattutto stiamo lavorando pensando alla prossima partita, pensando alla prossima sfida con orzi nuovi, pur non sapendo ancora il 100% anche che assetto avrà orzi nuovi, essendo in una fase di mercato a loro, quindi siamo concentrati su di noi, siamo concentrati nel migliorare quelle che sono state le cartive percentuali a Iesi e soprattutto nel tornare ad essere incisivi dal punto di vista difensivo perché siamo una squadra che prende energia dalla difesa, siamo una squadra che ha bisogno di difendere con una certa intensità per poi anche correre un po' di più in attacco.